Cari amici, ancora una volta torno a voi per chiedervi un ulteriore possibile incremento delle donazioni di sangue che in questo momento purtroppo sono diminuite. Non abbiamo neppure più la possibilità di far incrementare le donazioni con i tanti nuovi volontari che si sono avvicinati a noi perché purtroppo è imprescindibile il fatto che dovendo effettuare preventivamente un elettrocardiogramma a salvaguardia della loro salute, questo esame non può essere effettuato perché non c'è la possibilità di accesso alla cardiologia dell'ospedale Cardarelli. Quindi io voglio comunque incrementare, dobbiamo assolutamente incrementare il numero delle donazioni in questo periodo e voglio chiarire una cosa che probabilmente non consente a tutti di avvicinarsi con uno spirito di tranquillità alla donazione di sangue. In questo momento la donazione di sangue è assolutamente tranquilla, è sicura. Tutti i medici sanitari sono muniti di dispositivi di protezione individuale. Tutti i donatori che non dovessero avere guanti o mascherine saranno loro forniti da noi per cui potete stare assolutamente tranquillo. Abbiamo trasferito ora le donazioni presso la sede dell'Avis Molise proprio perché più sicura, più ampia abbiamo la possibilità comunque di fare sempre il ristoro ai donatori post-trasfusionale. C'è assolutamente la sicurezza, la sicurezza di una donazione tranquilla, sicura, idonea. Vi prego, abbiamo estrema necessità di voi. Avete sempre risposto ai nostri appelli con grossa solidarietà, con uno spirito di altruismo che è sempre innato nei nostri concittadini. Dobbiamo sempre comunque fare una prenotazione preliminare per evitare assembramenti. Quindi vi prego, potete chiamare sempre al numero di cellulare 333 199 4149 proprio per poter fare in modo di poter prenotare la propria donazione di sangue. Ricordatevi, c'è necessità di sangue. Vi prego, rispondete in maniera positiva a questo nostro appello che purtroppo dobbiamo continuare a fare proprio perché c'è questa grossa carenza che in questo momento blocca un po' tutto. Grazie e scusatemi se sono ripetitivo.